Investire nella competenza, perché pagare troppo poco i professionisti costa di più. Nel mondo degli affari, la gestione delle risorse finanziarie è cruciale. Spesso, le aziende cercano di risparmiare denaro riducendo i costi, ma quando si tratta di professionisti altamente qualificati, questa scelta può avere conseguenze costose. Questo articolo esplorerà le ragioni per cui pagare poco i professionisti del settore può rivelarsi una decisione dannosa e come investire nella competenza possa portare a vantaggi significativi per le aziende. Il fattore competenza. Un professionista altamente competente porta con sé esperienza, conoscenze specializzate e competenze che possono far avanzare un progetto o una iniziativa aziendale. Le aziende dovrebbero considerare la competenza come un investimento nel successo futuro, piuttosto che come un costo. Tempo ed efficienza. Professionisti altamente qualificati sono in grado di completare le loro attività in modo più efficiente. Questo significa risparmiare tempo prezioso, che è spesso sinonimo di risparmio di denaro. Un professionista incompetente potrebbe richiedere più tempo per completare un compito e, nel frattempo, l'azienda subirà ritardi e perdite finanziarie. Qualità e affidabilità. I professionisti altamente qualificati producono risultati di alta qualità e sono affidabili nella loro prestazione. Un professionista incompetente, d'altro canto, potrebbe consegnare lavori di scarsa qualità o commettere errori costosi che richiedono correzioni ulteriori. Reputazione e immagine. Assumere professionisti altamente qualificati può contribuire a migliorare la reputazione e l'immagine dell'azienda. Clienti e partner commerciali apprezzano il lavoro di alta qualità e affidabile, il che può portare a relazioni più solide e opportunità di crescita. Costi nascosti. Pagare poco un professionista potrebbe sembrare un risparmio iniziale, ma spesso si traduce in costi nascosti. Questi costi possono includere correzioni, ritardi, perdita di clienti e opportunità mancate. Alla fine, l'azienda potrebbe scoprire che ha speso più denaro di quanto avrebbe dovuto. Sviluppo a lungo termine. Investire in professionisti altamente qualificati è un investimento a lungo termine nella crescita e nel successo dell'azienda. Questi professionisti possono contribuire allo sviluppo di strategie aziendali e alla realizzazione di obiettivi a lungo termine. Conclusioni. Pagate poco i professionisti del settore può sembrare un modo per risparmiare denaro, ma questa scelta spesso si rivela controproducente. Investire nella competenza paga sempre dividendi in termini di qualità, efficienza, reputazione e successo aziendale a lungo termine. Le aziende dovrebbero considerare i professionisti come partner strategici e riconoscere il valore che portano all'organizzazione.